Ora, ritorniamo di fronte alla nostra documentazione e il prossimo argomento che andremo ad affrontare saranno i generics. I generics ci permettono di andare un po' a ragionare in ottica un pochino più componentistica del nostro codice. Poi per componente non intendo componente React, intendo tutti i componenti, quindi tutte delle parti di codice che possono essere riutilizzabili, di cui abbiamo bisogno di ottenere da essere la massima flessibilità. E questo è ciò che vanno a fare i nostri generics. Leggiamo un pochino d'occhi insieme e poi andiamo a fare qualche esempio per andare a capire quello che è il problema che questo tipo di soluzione cerca di andare a risolvere. Partiamo dal fatto che in tutti i linguaggi che sono tipizzati i generics sono presenti, come in C Sharp e in Java, e sono appunto uno degli elementi chiave alla base della creazione di componenti che sono generici, per cui molto flessibili e riutilizzabili in base a quello che è il nostro codice. Guardando un po' quello che è la documentazione, quello che possiamo vedere è che il nostro, il problema che cerchiamo di andare a risolvere è il fatto di avere una funzione che come sappiamo può essere tipizzata, possiamo dire che tipo di parametro accetta e che cosa ritorna. Però magari io ho bisogno appunto di avere della flessibilità da questo tipo di funzione, quindi che se ripassassi una stringa lui deve ritornare una stringa, se ripassassi un booleano vorrei che lui comunque mi ritornasse quello che è un booleano e così dicendo. Una soluzione popabile che effettivamente risolverebbe a tutti gli effetti il problema è la dichiarazione di any, in cui quindi posso passare a questa funzione tutti quelli che sono i tipi che mi pare piace e lui andare a ritornarmi in un tipo any, quindi che sarà adattabile in tutte le soluzioni. Però come ci siamo detti all'inizio any è un mostro da cercare di utilizzare il meno possibile e diciamo il nemico di TypeScript quando usi any se in un caso in cui non c'è veramente nessun'altra soluzione possibile se non andare a posizionare un bel any. Perché il nostro compito non è quello di andare a far sì che TypeScript non pianga, ma di andare a ottenere la massima flessibilità possibile e dall'altro lato dare le maggiori garanzie possibili a tutti gli altri sviluppatori che lavorano con noi, ma anche a noi stessi, su quello che verrà passato e quello che verrà ritornato quando si interagisce con delle funzioni o comunque degli elementi, o comunque delle classi, insomma, con gli elementi con cui stiamo lavorando. Come si risolve questo problema? Adesso andremo a vedere insieme lato codice però con quello che è appunto un generis che si distingue da questo tipo di scrittura, ok? Queste parentesi angolari indicano che stiamo andando a lavorare con un generico. Partiamo dal fatto che noi un generico l'abbiamo già visto e nella definizione degli array abbiamo visto che c'erano due modi per definirlo e un appunto era anche questo. Quindi in questo modo, appunto, abbiamo già utilizzato in maniera involontaria quelli che sono dei generic, quindi una struttura generica che poi va ad accettare al suo interno una tipologia di parametro che va poi ad aiutarci a definire quello che è l'oggetto. Quindi se io poi avessi const t, e vado a dire che t è di tipo array di string, allora poi dopo t tranquillamente sarà questo. Se lo copio e lo porto giù, ci passo qua quello che è, mettiamo cc e li passiamo quello che vorrei di number, io a questo punto posso andare a sapere che questo è un array di numeri. Questo è il modo in cui ne abbiamo già interagito con i generis. Ma torniamo al nostro problema. Il nostro problema appunto qual è? è che se andassimo a definire la nostra funzione, chiameremo identity. Posso cancellare, ok? Identity. Se andassimo a definire la nostra funzione, appunto, identity, avremo che il nostro argomento sarà di tipo any e ritornerà any e ritornerà il nostro argomento. Quindi se io andassi a lavorare appunto con quella che è la mia funzione di identity, non saprei mai cosa effettivamente mi viene ritornato. Se io ho bisogno di avere la garanzia che quando lavoro con questo tipo di funzione, quando ti passo un numero tu non mi ritorni una stringa, o quando comunque ti passo una stringa non mi ritorni un numero, io da fuori non ho questo tipo di garanzia. E tutto quanto passerebbe poi all'interno del corpo della funzione. Qual è la soluzione? La soluzione è andare a utilizzare quello che è un generico. Identity. Identity 2 sarà uguale a quella che la scrittura D, cerchiamo di essere un pochino più espliciti all'inizio, si aprono appunto queste parentesi angolari e si va all'interno a scrivere. Generalmente ho type, ma la convenzione vera è utilizzare T, ed è una convenzione che possa scriverci anche Mario qua dentro, non è assolutamente importante, però per convenzione si utilizza T oppure type. In questo caso rimaniamo su type per essere un pochino più espliciti. Dopodiché si va a dire che l'argomento sarà di tipo type, ritornerà a sua volta quello che è un bel type. E poi noi ritorniamo a quello che è il nostro argomento. Questa scrittura cosa vuol dire? Vuol dire che se io andassi a utilizzare e usassi Identity 1, mi ritroverei con quello che è la corrispondenza di Any, utilizzando Identity 1. Se usassi Identity 2, la magia è che adesso io qua avrò il valore di 1. Questo perché? Perché andando a definire questo tipo di scrittura, io dirò alla mia funzione di Identity 2 che gli sto passando un parametro che è di tipo type, quindi che gli sto andando a passare. In questo caso gli passo un numero, ovvero comunque 1, e che lui ritornerà un type del medesimo tipo, in questo caso 1, perché è una costante. Se magari avessi let, mi troverei con di fronte quello che è il valore di number. Quindi gli sto passando di tipo number, quindi il parametro che passo è di tipo number, ok? E mi verrà ritornato un numero. Se gli passassi appunto a Identity 2 quello che è il valore di 1, lui mi andrebbe a ritornare il tipo di stringa. Quindi so che sto lavorando con una stringa, so che sto lavorando con un numero, e questo mi permette di lavorare in maniera efficace con il mio codice anche su qualcosa di così generico. Se gli passo una stringa, mi ritorno una stringa. Se gli passo un numero, mi ritorno un numero. E soprattutto, oltre a fare questa cosa qua, che dal codice è evidente, è anche utilizzato. Quindi se non lo ritrovo in mezzo al corpo di una funzione, questo valore, se non è del valore che serve poi a essere utilizzato nel mio script di codice che mi servirà più avanti, in cui utilizzerò questa funzione, verrò avvisato e avrò un errore preventivo. Questo è l'utilizzo generale dei generics. Si può anche andare a fare con quello che è un proprio type personalizzato, quindi definirsi type persona. Persona ha appunto un nome e un age. Io posso andare a chiamare appunto let persona e posso dire che è uguale a identity 2. Devo aprire le parentesi angolari in questo caso, non come prima, perché sto utilizzando, sto passando un type custom che ho creato io. Quindi vado a dire che sarà di tipo persona e poi dopo andrò a passare cose a caso. In questo caso name 1, age 1. E lui mi dirà che persona è di tipo persona. Se io qua non passassi quello che è il valore di persona, mi troverei di fronte al fatto che persona è un oggetto che ha name e che è una stringa, age che è un number. Non troverei il fatto che è una persona. Ok, questa è la differenza e perché si va a passare in questo punto effettivamente questa parentesi angolari aggiuntiva rispetto a questo tipo di definizione. Ok, ho bisogno di avere più struttura perché il type è custom e io posso andare a ritrovarne lo sul mio oggetto. quindi se per esempio avessi una funzione che è const lo so login che accetta come parametro a una persona e ritorna void che ne so void chi se ne frega in questo caso io posso passare al mio login il valore di o name oppure lì posso passare quello che è il valore di persona in questo caso e posso ottenere questo tipo di scrittura. Molto probabilmente in questo caso così semplice funzionerebbe anche se io qua non avessi questo tipo di scrittura perché quello che richiede è molto molto semplice in caso è un pochino più strutturato invece questo tipo di scrittura è un pochino più necessario.